ciao a tutti sono tornata perché lo so purtroppo per voi a volte ritornano ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti amici allora questi qui insomma almeno quando li lavo insomma per qualche ora lo smalto sembra un pochino più bianco riscardi devi uscire dal mio corpo per favore sto facendo un video allora la prima domanda cosa sta indossando allora avete presente quelli del telegiornale che voi ve lo immaginate sempre sopra tutti i belli vestiti meravigliosi stupendi e sto facendo le mutande mangiate tanto poi c'è tempo per fare la dieta poi c'è il capodanno c'è l'epifania i matrimoni ci sono le comunioni ci sono i battesimi poi c'è poi ritornano i matrimoni vabbè diciamo che non c'è il tempo per fare la dieta mi sento tanto veramente il bambino della canzone a me piace a nutella che sta sponsorizzando la crema anticellulite della connessar in questo momento se non conoscete il piccolo lucio io vi invito a cliccare su google piccolo lucio e vi apparirà vi apparirà se google avrà diciamo il coraggio di farvi apparire chi è questo personaggio potete capire diciamo la la sottile somiglianza a questo soggetto ci stiamo facendo un diretto da mediaward e il mio fidanzato voleva il calendario di belen nuda giusto giusto è un pronto ci ho trovato calendario di belen nuda bravo era belen si però in aviexpress diciamo che cosa sta facendo ho visto che sparaflesciava sparaflescia cosa fai mi sparaflesci un attimo ragazzi abbiate pietà cioè durante l'anno feci un video dove vi parlo appunto di questa sì c'ho le perdite al rubinetto comunque abbiate pazienza non è colpa mia comunque voglio precisare che vedrete che piano piano durante il video io mi decomporrò lentamente perché nella mia stanza non c'è h2o cioè oggi è una giornata esagerata quindi probabilmente diventerò acqua cioè mi scioglierò fra non so se avete mai visto i vampiri di true blood quando muoiono che si spiattellano dappertutto probabilmente farò quella fine imploderò l'effetto che vai che ce la fai a caldissimo l'effetto mi sono tirata sopra i capelli perché faceva caldissimo ma penso che avrei dovuto togliere direttamente il cuoio capelluto perché è una cosa assurda io penso che quella commessa mi sognerà ancora di notte da qua a 15 agosto mi sta ancora a botte e miacca sono andata in pratica l'ho fatta andare credo una 5 6 volte nel magazzino a vedere il numero perché io avevo praticamente le ballerine e con i miei bellissimi piedi palmarie non entrava nei piedi negli stivali per provarvi ringrazio tantissimo un bacione grande se passate di qua iscrivetevi o mettete un bollicino insomma mi raccomando è un bacione ciao e ci vediamo presto e niente ci vediamo presto ciao